Che cos'è il complottismo, secondo le dinamiche di questi studiosi anglosassoni, che sono una cosa allucinante, cioè una teoria del complotto fatta da parte di uno che ti vuole spiegare cos'è il complottismo. Cioè proprio il ribaltamento della logica, senza una dimostrazione, senza un ragionamento razionale, perché oggi se ne vedo in tutti i colori, non solo questi moni, anche relativi ai complotti. Sembra quasi che Giulio Cesare si sia suicidato, perché pare che le classi che basano il loro potere e la sua propria privata abbiano questa tendenza a non fare complotti. Andreotti chissà cosa c'aveva nella gobba, visto cosa ha combinato in questo paese. Un consiglio, no? Allora, se non fanno i complotti dovrebbero spiegare il perché della Gladio. Quindi il perché di queste strutture in tutta Europa, che guarda caso, in momenti topici scoppiano atti terroristici dove, cavoli, lasciano sempre i documenti, i telefonini, no? E uno dice, ma cavolo, ma sono proprio una banda di rimbambiti questi qui, no? Da dove li va? Anche i selfie, esatto, si fanno i selfie addirittura. Cioè, ragazzi, se qui siamo veramente a tentativo di rincoglionimento generalizzato, quindi occorre di nuovo mettere in piedi in questa città, diciamo, e io sono contento che ci abbiano dato questo spazio, quindi dell'Arci Rinascita, perché bisogna ricominciare a riflettere seriamente sulle cose che sono state dette stasera per arrivare a formulare delle proposte politiche e anche organizzative capaci di essere all'altezza dei tempi, perché qui c'è un problema serio di essere capaci di contrastare un progetto che è un progetto estremamente pericoloso, perché è dentro in una crisi dove, appunto, la guerra è l'elemento di risoluzione parziale, no? delle crisi capitalistiche. Abbiamo già visto con la Prima Guerra Mondiale, la Seconda Guerra Mondiale, anche lo stesso risorgimento italiano era dentro col meccanismo delle guerre, perché se lo andiamo a studiare bene vediamo che anche quelle guerre erano funzionali, come le guerre napoleoniche, no? a determinate crisi dell'epoca. Quindi io direi, mi sembra che i compagni qui abbiano dato veramente un grosso contributo, però dobbiamo imparare anche a organizzarci in modo, come diceva giustamente Claudio, in modo anche corretto, con le giuste categorie, perché senza una lettura con le categorie giuste, no? Quindi ritornare a una lettura, diciamo, di marci, di granci, anche di togliati e soprattutto dandoci un'organizzazione che pratica la democrazia e la trasferisce poi nella società. Grazie.